Ho sempre fatto una distinzione netta tra le immagini trovate e quelle costruite. Parole di Ferdinando Scianna, che con i suoi scatti ha raccontato oltre mezzo secolo di storia. Da bagheria alle ade boliviane, dalle feste religiose, esordio della sua carriera anche con un libro con prefazione di Leonardo Sciascia, all'esperienza nel mondo della moda, iniziata con Dolce Gabbana. Poi il reportage, i paesaggi e le sue ossessioni tematiche come gli specchi, gli animali, le cose e infine i ritratti dei suoi grandi amici, maestri del mondo dell'arte e della cultura. Questa mostra è costruita secondo tre assi che per me sono sinonimi di fotografia, la memoria, il viaggio e il racconto. Io sono un reporter, mi considero un reporter sempre. Non sono mai uscito dicendo oggi vado a fotografare un bambino, oggi vado a fotografare uno che dorme, cose sulle quali poi ho fatto dei libri su ciascuno di questi argomenti. Non sono mai uscito dicendo oggi vado a fotografare un paesaggio. E' il paesaggio che mi dice guarda come sono interessante, fammi una fotografia. Perché questo fa il fotografo, reagisce agli input che gli dà il mondo. E allora in una mostra come questa io racconto 19 storie. E tra queste storie c'è anche il paesaggio, ci sono i bambini, c'è il dolore che io ho incrociato, ci sono le donne, la moda, i ritratti. Una carriera lunga, 50 anni, quella del fotoreporter nato nel 1943, nello stesso comune originario di Renato Guttuso e Ignazio Buttitta. Con circa 200 fotografie in bianco e nero stampate in diversi formati, la mostra alla Galleria d'Arte Moderna di Palermo si sviluppa lungo un articolato percorso narrativo. L'attualità, la guerra, il viaggio, la religiosità popolare, scatti legati da un filo unico conduttore, la costante ricerca di una forma nel caos della vita. Il fotografo non fa le fotografie, il fotografo le riceve. E' il mondo che produce il senso, persino la bellezza qualche volta. Il mestiere del fotografo consiste nel saperla riconoscere e nel fargli una fotografia. Il fotografo non fa le fotografo non fa le fotografie, il fotoreporter al fredatti.